Finisce senza reti il match nell'ultima ora di pranzo tra il Cagliari e l'Udinese, un match in cui i padroni di casa fanno la partita, ma il risultato non cambia. Sardi vivaci nel primo tempo, l'Udinese si difende al 42esimo, i rosso-blu potrebbero passare, ma il diagonale di Lovumbo finisce sul palo. Al 64esimo, Biul salva su Volumbo. Al 79esimo, Radunovic salva su Lucca, che si era trovato a tu per tu con il portiere dei Santi. L'occasione più ghiotta della gara Cagliari-Pimpante-Ludinese si fa pericolosa, un contropiede. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, campanella notifica e un commento. Ciao!